Allora, Puglia! Puglia, il mio posto del cuore, cioè il posto dove io vorrei assolutamente venire a vivere, a breve, spero, beh non brevissimo, perché insomma, un po' più in là con l'età, ecco, vorrei riposarmi in Puglia per il resto della vita, perché la Puglia è meravigliosa, tutta la Puglia, ho una passione per la Valle d'Itria, ma tutta la Puglia è pazzesca, dovunque guardi, dici, vabbè, che cos'è questo, com'è possibile che sia così bella? Allora, le strappiamo una confidenza, l'ha detto Valle d'Itria al mare? Allora, la Valle d'Itria è proprio il posto che mi piace tantissimo, però il mare, adesso stiamo a Marina di Pulsano e io non avevo mai visto il mare di Marina di Pulsano e sembra di stare ai Caraibi, pazzesco, però posso dire anche che venendo qui, passando vicino al porto di Taranto, anche il porto di Taranto sembra di stare ai Caraibi, quindi io non capisco, siete proprio fortunati! Quindi lo aspettiamo? Io torno sempre, cioè non c'è dubbio proprio! Il suo messaggio per Taranto? Il mio messaggio per Taranto è... E voletegli bene a Taranto perché se lo merita, sembra una vecchia signora che ha bisogno di coccole, è una bellissima donna che era bella prima e che adesso sta invecchiando e ha bisogno di coccole, ha bisogno di tante coccole! Bellissimo, grazie! Grazie!